super enduro volkswagen for motion ci siamo finale dell'edizione 2009 pro di finale ligure una gara attesissima se ne parla da tantissimo tempo finalmente ci siamo clima estivo ci sono 25 gradi tempo stupendo verrebbe voglia di farsi un bagno al mare ma invece oggi l'azione è tutta sulle montagne sulle tre prove speciali che compongono questo percorso durissimo ma bellissimo c'è tutto il meglio del finalese ci sono tantissimi atleti internazionali c'è greg erbold una legenda della mountain bike karim amour florian golet e ovviamente marco rodolico che ieri abbiamo visto al via del prologo vestito da superman marco è nettamente in testa al circuito probabilmente oggi porterà a casa il titolo ma ci sono ancora tantissime lotte aperte per le categorie e soprattutto per la vittoria qui oggi a finale quindi andiamo a goderci la gara grazie a tutti 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 Grazie a tutti